L'Auditel ha diffuso i dati d'ascolto delle televisioni locali italiane durante il mese di novembre 2013 e Teleuniverso è al primo posto in assoluto per numero di telespettatori che seguono le sue trasmissioni nel Lazio. A novembre sono stati 84.949 i contatti nel giorno medio, con una durata della permanenza davanti ai teleschermi tra le più lunghe nell'emittenza locale in Italia. Più volte abbiamo sfondato il muro dei 100.000 telespettatori. A novembre i sensori dell'Auditel hanno registrato un calo degli ascolti per tutte le tv del Lazio. Teleuniverso invece ha sostanzialmente tenuto sia nel Lazio che in Abruzzo. In più c'è l'ascolto che sta arrivando dal Molise, dove abbiamo acceso il segnale da alcune settimane. Ottimi gli ascolti rilevati in tutti i programmi trasmessi in diretta dalla nostra rete. Buone le performance ottenute dai film selezionati dalla programmazione. Quelli diffusi in queste ore sono gli ultimi dati Auditel per il 2013. I prossimi, quelli relativi al mese di dicembre, verranno elaborati e divulgati a gennaio 2014. Su dieci mesi censiti nel 2013, a gennaio non c'è stato il rilievo Teleuniverso, è risultata prima in assoluto in ben otto mesi, ed è sempre stata prima nel dato medio annuale che si avvicina ai 90.000 contatti quotidiani. Il migliore risultato possibile per i 35 anni di storia di questa rete, che si colloca così tra le tv storiche nel panorama televisivo nazionale.